musica 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 e benti ragazzi io sono la darkshout oggi siamo qua in un nuovissimo vlog oggi vi voglio dire alcune cose perchè appunto non sono cittiviti in queste settimane e ho molti problemi in questo video oltre a taiwan sicuramente un problema lui è ovviamente a casa mia per aiutarmi con questi problemi tra l'altro come se ne avessi qualcosa prima di tutto vi ringrazio per gli 88 iscritti che sono fighi e presto ci sarà uno speciale e questo è un telecomando e presto ci sarà uno speciale poi come avevo detto nello scorso nuovo c'è una nuova sedia che però lui ha preso possesso come state vedendo non sto registrando dal mac che è lì adesso ho un treppiede che è un portapenne quindi è meglio non togliere il telefono dal portapenne dopo ve lo faccio vedere perchè appunto non riesco a registrare dal mac perchè ci sono problemi perchè dovete capire che è uscito il nuovo aggiornamento a osx 10.11 che capitano mi da problemi al kernel del software che non so se non sapete che cos'è è il cuore del software e quindi praticamente adesso il kernel che è la parte che gestisce tutto il software mi crash e quindi sono prestazioni molto minori quindi appunto non riesco a registrare un video neanche e appunto il computer si potrebbe spegnere quando vuole e appunto devo cercare di mettere a posto questa cosa TF tra un po' adesso cercheremo sempre di registrare TF non si trova comunque TF non cercheremo di registrare lo vedrete davanti ma comunque se mancano i video sappiate che appunto non riesco a registrarli poi abbiamo sempre le nuove serie che presto arriveranno hashtag e le relazioni poi faremo una serie su Masterchoff spiega cos'è Allora Masterchoff è una nuovissima serie che abbiamo inventato io a Eiderline in cui prendiamo per il culo quella sfottuta trasmissione di merda che tutti voi amate ma io con la mystery box ci ho fatto la misola di casa mia tanto per capirci e perchè mi faceva cadere il cazzo e la M l'ho cartavetrata perchè mi fa cadere il cazzo comunque prendiamo per il culo Gordon Ramsey gli amici finocchi quello obeso di Masterchef Australia link in descrizione di Masterchef Obeso Australia che non ci sarà per un cazzo e niente prendiamo per il culo questi sfigati che cucinano ma basta esattamente poi appunto ci sarà sempre lo speciale sul bio 3 che appunto finchè non esce dice niente finchè non esce sto cazzo poi sempre il speciale cactus perchè i cactus sono l'emblema giusto? certo quando lo giri? quando avrà un cactus quando ti riparai dall'armadio il tuo povero cactus dato che ci stiamo avvicinando ai 100 iscritti stiamo iniziando ad organizzare lo speciale ai 100 iscritti però non vi voglio dire niente quindi auguratemi buona fortuna per risolvere questo problema col kernel del mac di videoblog ce ne saranno molti perchè appunto questi possono registrarli col telefono e il tipo forse lo speciale per gli 88 iscritti ci sarà poi vi ricordo di passare dalla pagina di settimo cinema su facebook perchè c'è un nuovo post che lì c'è una nuova cosa perchè stiamo facendo nuove cose segrete perchè andate a leggere il post ci sarà appunto il link in discussione della pagina di settimo cinema dal canale di settimo cinema andate dalla pagina facebook di settimo cinema e andrete a vedere il post venga se vi state annoiando guardando questo video lasciate un like così scoprite qual è il nuovo segreto comunque niente riguarda sempre robe con i film e niente ora vi faccio vedere il mio benissimo trepede guarda che figo però con questo trepede io posso fare da carrello perchè gira ed eccoci tornati qui ragazzi non sento niente perchè con queste cuffie non sento niente sono isolanti e fatte apposta per poter sapete quelli dei muratori da 2000 euro? eh no comprate queste che costano meno e niente a parte questo vi do un altro piccolo assaggio di hashtag rivelazione ma no adesso non registriamo veramente hashtag rivelazione e altro che non possiamo registrare tf no io devo giocare tf quindi frega un cazzo vabbè registriamo poi il resto che deve ecco vi do un altro no aspetta ti fai vedere questo è il mac appunto a parte aspetta gli appunti come vedete ho aggiornato sx10.11 a parte lo sfondo ho aggiornato sx10.11 e mi capitano i problemi con il kernel se non sapete cos'è il kernel andate a cercarlo su internet così magari trovate delle soluzioni per me esatto ah e cioè giustamente questo è il portapenne con cui sto vedete che gira con cui sto facendo il treppiede perchè io sono a scusate perfetto per il primo assaggio di hashtag rivelazioni scusate per la fotocamera è veramente il terzo assaggio proprio di internet vabbè terzo assaggio di hashtag rivelazioni voglio farvi vedere ma la fotocamera è interna o sterna? è interna ah ok sono a handicap perfetto sono a handicap sono a handicap volevo farvi vedere questo come? eh si? avete visto tutti The Escapist Walking Dead come far spottonare soldi a gente di colore che lavora con i negri per comprare un videogioco inculato a 8 bit The Escapist The Walking Dead prossimamente sul canale non è vero si 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 ecco sono più bravo di Steppli perfetto ora che ho detto che sono più bravo di Steppli potete vedere la sua fantastica firma al contrario perchè noi siamo figli te la vedo il contrario ma io la vedo il contrario perchè sono scemo e niente questa era la firma di Steppli perchè dovete capire che in un altro hashtag rivelazioni l'hai emozionato con gli occhi al contrario quindi lui vede destra e sinistra al contrario dovete capire questo si va bene non spoilerare troppa roba mi raccomando qui possiamo vedere tutti i bellissimi le merde tanto queste parti le taglierò perchè c'è l'imbarazzo guarda guardate il bimbo minchia il bimbo minchia il bimbo minchia ok nel prossimo video vi spiegherò cos'è tutta sta roba e mi raccomando iscrivetevi al mio canale anche se non ho video perchè sono un figo e niente qui dalla dark shadow e diamonds bella è tutto è tutto non me ne frega un cazzo ho preso possesso del canale e ci rivediamo in un prossimo video bella ragazzi comunque non è così l'outro non frega un cazzo non frega un cazzo